Una donna di 40 anni originaria di Ponte Cagnano Faiano si è tolta la vita nel pomeriggio di ieri all'interno del carcere Salerno-Forni. A comunicarlo il garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. È la prima donna a suicidarsi in Campania dove dall'inizio dell'anno già sette detenuti si sono tolti la vita. Il carcere, spiega Ciambriello, deve servire a rieducare e non a togliere la vita o a restringere diritti ed annullare la dignità. Una tragedia che accende ancora una volta un faro sulla condizione dei detenuti. A parlare ci sono i dati. Appena 73 mila euro destinati dal Ministero per il trattamento dei detenuti campani su una popolazione di 7.642 persone, 95 educatori, 43 psicologi ministeriali ed una ventina di psicologi e psichiatri delle ASL per i 15 istituti campani.